Un piccolo prelievo di sangue per calcolare il rischio di sviluppare il tumore al fegato dieci anni prima della sua comparsa. E questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dell'Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte dopo aver calcolato il punteggio Galada attraverso un algoritmo basato sulla misurazione di alcuni biomarcatori presenti nel sangue. Lo studio, che ha coinvolto 545 pazienti con cirrosi epatica, è stato condotto in collaborazione con l'Università di Modena. La diagnosi precoce è fondamentale per garantire al paziente la terapia migliore, come spiega il professor Gianluigi Giannelli, direttore scientifico dell'Istituto De Bellis. Il 90% dei pazienti che sviluppano tumore al fegato sono soggetti che di per sé già soffrono di una malattia epatica cronica, in particolare di cirrosi epatica. Questi soggetti, secondo le linee guida internazionali, sono sottoposti a dei programmi di sorveglianza appunto per cogliere l'inizio della malattia quanto prima possibile. Abbiamo visto che combinando un insieme di parametri secondo un algoritmo che è stato pubblicato recentemente nelle letterature internazionali, in cui sono previsti tre biomarcatori, più l'età del paziente, il sesso del paziente, si riesce a studiare, a predire l'insorgenza della malattia. Nel nostro caso, in uno studio longitudinale, ha messo in evidenza che con quasi dieci anni di anticipo si riesce a individuare quei soggetti che hanno un rischio maggiore di sviluppare tumore al fegato. E quindi questo aggiunge un'arma veramente di grande valore sia per il clinico e naturalmente per il paziente perché lo può portare più facilmente, più frequentemente a cogliere la malattia in uno stato iniziale e quindi a poter essere avviato ad una terapia più radicale e quindi più curativa. La piattaforma tecnologica utilizzata per il dosaggio dei biomarcatori Galad è unica al sud e in Italia è in possesso solo della ASL di Novara in Piemonte. È stata acquistata dal Debellis da circa un anno grazie alla raccolta delle donazioni spontanee attraverso il 5x1000 destinato alla ricerca, un aspetto da non sottovalutare.